Perché lo schermo è diviso in tre? Le interviste triple si fanno così. Ma siamo letteralmente... Sì, ma tu lascia stare! Piantala! Bene, ho analizzato le più profonde tecniche di intervista e studiato le tematiche più adatte per farci conoscere. Cosa fai? Nei video virali non si spiegano le cose, si fanno e basta. Il web è la morte del contesto e noi siamo complici. Ma iniziamo. Nome? Scossa. Alpine. Giuseppe. Cripta. Non si può neanche scherzare, capito? Età? Sarà uno spazio sta intervista. Allora, sì, un attimo, eh? Giovanna d'Arco era del... Soprannome. Una volta mi hanno chiamato Pupa Elettrica. Genio! Il basso medioevo, quando è che è finito? Musica preferita. Death metal. Wow! Un po' il pop, un po' l'e-pop, un po' il dance-pop. Tutto quello che finisce con hop, insomma. Country! Yee-hoo! E perché? Perché ci piace? Siamo noi a scegliere cosa ci piace? O è quello che ci piace a scegliere noi? Beh, siamo noi a... Però, aspetta. È davvero libertà? Scegliere i propri gusti tra opzioni decise da... Le domande le fa macabro! Se non possiamo che indossare maschere preconfezionate, apparentemente diverse, ma in fondo tutte uguali... Chi siamo veramente? Non siamo forse che pedine sacrificabili nel grande gioco dell'universo? Io non voglio essere una pedina! Risposta esatta. Bene, ora sapete qualcosa in più su di noi. Io non so più niente. Perché siamo qui? Che senso ha tutto questo? Non dimenticate di lasciare un like! E se avete altre domande... Affronteremo il dilemma senape o ketchup e le sue molteplici implicazioni freudiane. Non perdete!